ragazzi buongiorno bentornati o benvenuti sul canale oggi è 28 dicembre 2022 buongiorno, burro, formaggio, yogurt, pane, oggi insieme all'albergo si abbiamo prontato su airbnb ci insia fuori c'è un sole fantastico sono le 8 5 gradi in più di ieri l'aria è sempre un po' frizzantina siamo arrivati a tatawine dimenticato da tutto e tutti palmeti oasi parcheggiato la moto siamo in pieno centro praticamente il centro in realtà ho visto persone anche a dirlo anche questi granai hanno fatto parte del film star wars qui è veramente figo sembra di essere veramente fino a poco fa eravamo in una pseudo cittadina piccolina insomma adesso siamo su un alto piano a circa 300 metri di altezza ma guardate che roba una rosa a 20 dineri sono qualcosa di incredibile questo è l'interno di un granaio sono circa le 13 e 30 ed è ora di pranzo pensa che arriva contenta sono andata a questo del mercato e non aveva a parte il pane e il tono a pensare che in italia ci sono dai 3 4 5 0 non lo so vedevo le previsioni dalle parti nostre c'erano 6 gradi questa mattina e poi che ce ne saranno 20 tra 24 siamo maniche corti al sole scoti in questo momento ci stiamo letteralmente lasciando guidare dall'estima che è andata su è tornata indietro si è fermata e ci ha detto questa qui è zona interdente sempre gentile ci è chiusa finisce giù e su è zona militare ma no no dove hai fatto due il militare prima l'ha fatto un po bruttomuso questo da fa poi alla fine si è sentito quasi in colpa e ci ha regalato tre mandarini e la terrazza della nostra struttura la camera una camera modestissima ma questa struttura qui questo terrazzo anche questo piccolo gazemo in stile tunisi beautiful il place non questa sera pullet insalata e con cola a voi non costa nulla e per noi ciao il prossimo video